Ciao a tutti e benvenuti in questo nuovo video in cui vi farò vedere una partita della semifinale del campionato italiano assoluto che ho giocato contro il maestro Fide Alessio Borraso, Iori il Bianco. Semifinale in cui mi sono addirittura qualificato arrivando secondo alla finale del campionato italiano assoluto che si giocherà a novembre a Brescia se non sbaglio. E niente, ci sarà sicuramente da prepararsi perché sarà una sfida molto molto impegnativa, però per adesso vi faccio vedere questa partita molto molto interessante che ho giocato da Bianco con Borraso. Io ero dunque il Bianco, gioco a D4, C5, dunque difesa siciliana, C3, variante Alavin per supportare la spinta in D4, D5, attaccando il pedone in E4, il pedone centrale, dunque E per D5, cavallo F6. Questa è una variante che non mi aspettavo, penso che intorno sia la prima volta che mi capita di affrontarla, e non mi ero onestamente preparato tantissimo su questa opzione. Quando l'ho vista il mio approccio è stato un po' di giocare in maniera tranquilla, calma. Sapevo che la linea principale è donna 4, scacco, con l'idea che è su calo D7, magari posso giocare mosse tipo C4 per rendere difficile la presa del pedone, però devo stare attento a linee forzate come per esempio B5, o in futuro, diciamo queste spinte di rottura, e ritenevo non utile entrare in linee forzate, che magari l'avversario conosceva molto bene, ha preparato molto bene, e io magari entravi in un territorio sconosciuto. Dunque in questi casi, il mio suggerimento è di fare mosse normali, mosse tranquille, per non esporsi troppo a questo, dunque ho giocato D4, che è comunque una mossa ragionevole. Cavallo per D5, cavallo F3, C per D4, e qui ho preso di donna, con l'idea che in un potenziale finale ho comunque una maggioranza 3 contro 2 sull'auto di donna, che può tornare utile, piccolo elemento di vantaggio, e qui E6. Mi aspettavo cavallo C6, la mia idea era di giocare poi al fiore B5, così che la regina poteva ancora mantenere questa posizione, grazie all'incrivatura del cavallo in C6. L'ho giocato E6, che ha l'idea di giocare cavallo C6 e poi al fiore D7, così da mantenere il cavallo in D5 difeso dal pedone, e la mia idea è che non volevo cambiare il mio alfiere per il cavallo, e allora ho giocato cavallo E5, così che eventualmente sul cavallo C6 posso sempre cambiare, no? L'ho giocato F6, che l'ho mossa un po' dubbio probabilmente, perché indebolisce un po' la struttura, l'ho giocato scacco, cavallo D7, a questo punto c'è una mossa molto interessante che in partita ho pensato, l'ho calcolata ma poi non l'ho capita fino in fondo, che è donna G4. Infatti, la mia idea era questa, con il mio calcolo è stato, se gioco donna G4, lui mangio il cavallo, io mangio un E6, lui fa il cavallo E7, e poi pensavo che fosse finita per me, perché dopo donna B6 il nero può liberarsi della mia donna, non pensavo che il compenso per il pezzo sacrificato fosse sufficiente, in realtà lo è perché qui posso giocare alfiere E3, che è una mossa forte, perché evito donna B6, e su mosse come per esempio A6 arriva comunque alfiere in B6, che è molto bella, perché chiaramente se cattura di donna c'è il fiere per D7 e per D7 la donna, se invece cattura l'alfieri o cattura la donna, alla fine ho Regina contro tre pezzi, però ho anche un pedone in F2 in più, diciamo, però sei pedoni contro cinque, e tutti i suoi pedoni sono deboli, oltre al fatto dell'area e suo re anche al centro, dunque hanno in più un elemento negativo nella sicurezza dell'area, dunque questa è sicuramente una posizione di vantaggio per il bianco, però ahimè non l'ho calcolata fino in fondo, dunque ho giocato cavallo F della mossa semplice, non cambio perché il mio cavallo reputo sia più attivo, il suo cavallo è inchiodato, dunque non voglio cambiare in questo caso, sono tornato indietro, e qui donna B6, qui è interessante perché valutavo a mosse per esempio donna 4 per evitare il cambio, tuttavia non mi convinceva perché poi in un futuro la donna potrebbe essere attaccata dal cavallo, chiaramente non subito ma dopo che l'inchiottatura sarebbe stata rimossa, per questo motivo su una B6 ho cambiato le donne perché comunque lui deve prendere il cavallo in D5, dunque deve tornare indietro, e comunque sempre questo elemento è la maggioranza sul lato di donna che cerco poi di valorizzare nel lungo termine, dunque rocco corto, mi sistemo, F7, torre D1, cavallo C5, qui ho commesso il mio primo errore perché ho giocato B4 che mi sembrava una buona mossa attiva, la mossa più precisa è l'alfiere A3 in questo caso, semplicemente sistemarsi, B4 è sbagliata perché lui avrebbe potuto giocare cavallo in A4, la mia idea in questa cosa era di fare sempre C4, C5 è il mio piano in tutti i casi, e qui pensavo di fare l'alfiere A3 per poi fare C4, C5, solo che lui può fare A5, C4, A6, mi costringe a cambiare il mio alfiere sul cavallo, e dopo C5 e l'alfiere A6 il nero ha i pezzi più attivi e dunque il nero sta meglio, dunque B4 è sbagliato per questo motivo perché mi porta a cambiare il mio alfiere per un cavallo e poi nei fatti ho tutti i pezzi comunque molto passivi per fortuna mia lui ha giocato a cavallo E4 che mi permette alfiere D3 perché voglio evitare che il cavallo possa essere consolidato in E4 e il mio piano è sempre fare C4 e C5, solo che non posso farlo perché lui ha due cavalli che proteggono dunque chiaramente non posso spingere subito ops, ho un po' di problemi con le frecce però ci siamo capiti dunque ho giocato cavallo D2 per supportare la spinta e lui cavallo in D5 ora il pezzi tra attaccato dunque lo difendo alfiere D7, non posso fare C4 perché il cavallo B4, il cavallo attacca B4, dunque prima A3 per difendere B4, alfiere in A4 qui ci ho pensato un po' a questa mossa ci ho pensato dietro 8 minuti e 12 secondi perché se no una partita live il tempo è stato salvato dunque posso vedere che ci ho pensato ben 8 minuti e 12 secondi a questa mossa e inizialmente pensavo di giocare Torre C1 poi però mi sono fatto un po' di domande soprattutto mi sono chiesto cosa vuole fare il nero con questo alfiere avevo paura di G5, G4, alfiere H6 dunque riteniamo che comunque la Torre in C1 potesse essere scomoda su questa eventuale prosecuzione e allora l'ho messo in E1 sia perché comunque sia attacco E6 che è debole ma anche perché comunque se proprio volessi una Torre in C1 posso metterlo a dove per spingere C4, C5 in realtà la Torre in C1 Ftn non serve, non è necessaria dunque la Torre in E1 è sicuramente più logica cavallo F4, l'alfiere deve andare via dunque gioco l'alfiere in F1 e a questo punto E5 E5 è secondo me uno sbaglio da parte sua perché giocando E5 rende il re un po' più precario un po' più aperto e vedremo la prosecuzione con il problema perché su C4 che è la mossa che voglio fare sempre che ho giocato chiaramente B6 arriva C5 forse il nero riteneva che C5 fosse non giocabile io l'ho fatta ci ho pensato 5 minuti però in realtà sono quelle cose che tu sai che vanno bene però per sicurezza diciamo le vai a verificare per non rischiare il punto di C5 qual è? che spingendo il pedone dopo presa, presa, cavallo, B7 il pedone sembra perso perché lo attacca due volte con il cavallo e con l'alfiere però ho scacco questo scacco è preziosissimo perché mi permette di guadagnare un tempo su re e poi prima togliere il cavallo così da conquistare la casa in D5 e poi giustamente la trattata di D5 che è fondamentale perché sul pedone non può essere catturato perché c'è il cavallo sotto o comunque il cavallo inchiodato perché ci sta la torre dietro torre B8 per difendere il cavallo e a questo punto cavallo per G5 re per G5 scacco ora lui deve fare le H6 perché comunque se giocasse altre mosse come re in G6 potrei comunque dare scacco lo stesso e poi deve per forza sempre andare su casa scura lui cambierebbe ben poco alla fine lui fa le H6 scacco in C1 G5 torre B1 con torre B1 guadagna un pezzo perché non può spostare il cavallo dunque deve deve prendersi il pedone o catturare il cavallo e adesso il finale è chiaramente vinto per il bianco stiamo attenti perché comunque dobbiamo semplificare bene dunque sul registro ho fatto alfiere E3 perché voglio cambiare l'alfiere scuro per l'alfiere scuro torre B8 qui non devo fare questa perché comunque l'alfiere campo chiaro è importante e renderebbe il mio re un po' precario un po' anche che G4 potrebbe essere sempre una minaccia poi dunque non voglio cambiare l'alfiere campo chiaro per quello scuro dunque torno indietro e quando gioco l'alfiere per l'A3 io faccio torre A1 l'alfiere B3 è forzata perché altrimenti perde un pezzo sono contento di cambiare l'alfiere campo chiaro per quello chiaro e vediamo questo che è fondamentale quando giochiamo e semplifichiamo bisogna capire proprio il pezzo che voglio cambiare e per quale pezzo voglio cambiarlo cioè non è una cosa che faccio in automatico ma devo fare queste piccole dotazioni che sono molto importanti dunque cavallo D2 la torre deve andare via cavallo C4 l'alfiere attaccato due volte deve andare via riprendo il pedone in A7 a questo punto dopo la presa del pedone a questo punto diciamo Re G6 torre B7 alfiere F8 torre B7 è importante perché andiamo a rendere passivo l'alfiere deve andare in F8 G4 a questo punto è fondamentale non permettere al nero di spingere di avanzare col pedone dunque G4 ha fatto una importante mossa di blocco da notare che non può fare F5 perché perde chiaramente un pezzo cioè scacco e perde l'alfiere oppure non può fare H5 perché dopo presa presa torre F7 perde F6 dunque non ha libertà di avanzare dunque torre C3 cavallo D2 adesso il cavallo vuole portarsi nell'avamposto in F5 torre C6 cavallo E4 F5 preso in F5 diciamo perché gioco F5 perché nei fatti o la giocatessa non la può giocare mai più perché io sono pronto a fare caldo G3 cavallo F5 che bloccherebbe tutto per sempre dunque F5 ormai il finale comunque è perso l'idea è di provare a creare dei problemi in realtà però nei fatti prendo il pedone in G5 prendo anche quelli in H7 perché se cattura il cavallo arrivatore H5 e poi H4 vado banalmente a mangiare in G5 e il bianco vince facilmente con due pedone in alfiere contro un pedone dunque in realtà lui ha giocato questa per provare a complicare di più però dopo l'H5 abbandona perché nei fatti non c'è soluzione alcuna da parte del nero ormai il finale è facilmente vinto magari posso fare torre F5 torre per E5 non c'è niente da fare allora quali sono le idee importanti di questa partita sicuramente il tema del gioco senza le donne e degli eri espandi sul lato di donna che magari il nero poteva evitare con cavallo A4 renderlo più difficile con cavallo A4 cosa non ha fatto non facendo però il bianco riesce ad avanzare in C4 e il tema dell'espansione sul lato di donna e della diciamo precarietà del re nero fanno sì che il bianco poi alla fine ottiene il vantaggio questo è un po' le chiave della partita spero che il video vi sia stato utile vi sia piaciuto e grazie per la visione ci vediamo presto con dei nuovi video una buona giornata e a presto ciao